questo qua è caduto adesso è caduto adesso minchiarella sbagliate l'enduro sicuro anche questo bisogna tagliarlo bisogna tagliare anche questo qua perché è una rottura di valle è meglio farlo salire che non scendere è caputato non arriva facciamo il giro finestra e poi nonписi facciamo il giro Oh Oh Arrivano si perdono Oh 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 Oh